Ciao a tutti ragazzi siamo qui nel nostro video su It's Raid 89 e siamo tornati qui nel nostro canale a bombazza ragazzi scusate per l'assenza ma sti cazzi Siamo qui a fare la reaction a FIFA 18 ragazzi a bombazza madonna Ancora non ho visto il video li andiamo a vedere insieme subito, andiamo a vedere con il trailer di gioco il gioco più bello del mondo avete ragione Mettiamo la coffia, ho già iniziato figlia di ciò Buon anno anche Il ca La reaction ragazzi Supera i due avversari Un mostro di abilità E qui lo studio della tua squadra Vidal, Stavani e Pipi I momenti Più emozionanti Minchia se era così, vabbè è così penso Madonna ragazzi Ragazzi il mio primo video è tipo una cosa fenomenale ragazzi Andiamo a vedere il secondo video FIFA 18, uno dei dettagli di viaggio Il ritorno di Hunter Tutti si rispondono a una sola domanda Quale sarà il futuro di Hunter? Sono tutti a caccia di Hunter Alessander è nel mirino Perciò questo parlere di Alessander, credo che sia Vediamo per essere Alessander con le siga, non penso Che guardiosa Ma dove è il guardioso Che ha lì Sta diventando passivo, non sopportabile Noi sono Quattro Come un po' Spero Nel Quattro 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 Buon ruo Quattro Buon ruo Buon ruo E' per Viva Alegre Non so, Ali! Oh, piccata! Lo vediamo nel Chelsea, no? Ciao ragazza! Stai con gli occhi! Ho visto Donaldo, ho visto Donaldo! Ho già scontato, spero! Ragazzi, ci andiamo a vedere l'ultimo video Cioè, per ora vi do la mia impressione Un gioco fatto benissimo Meglio di FIATI A7, grazie al cavolo Si migliora sempre di più Sperando che sia così Andiamo a vedere le icone Tra le storie di icone Cioè, le leggende ormai non sono passi di moda Sono le icone Vediamo che cosa c'è Inche tre versioni di icone ci sono 94! Muadun! Fernandina Cioè, l'88 Cioè, madonna Raga Cioè, a trovare un giocatore così Ma... Ma... Cosa è niente Cioè, a trovare un... All'inizio di FIATI qua Ti fai i crediti, cioè Cioè, ormai sei ricco Se trovi uno di questi giocatori Henry 93 90 No, niente raga Donaldo 96 94 costi capelli, va E le... Ma... 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 95 95 95 Di velocità Yeah Ronaldinho Mamma mia 94 89 Con quei denti Poi No ragazzi Abbombazzo Ragazzi Chiudo qui il video Ragazzi La reaction è stata fatta Un bellissimo video Un bellissimo gioco L'hanno fatto benissimo Fui a 18 Aspetto del giorno 29 Per giocarci E Se arriviamo a 30 like Inizieremo Il viaggio In live E poi faremo Il footage Ragazzi Il prossimo anno Ci saranno molti Di video di Fibo Quindi non vi rompete E niente Ci becchiamo al prossimo video Se vi è piaciuto questo video Lasciate 30 like Per il viaggio In live E niente Ci becchiamo al prossimo video Bella ragazzi